Tevez Stavis Se non c'è molto mai campeonato Ma ancora lui In mezzo Tevez Tevez a sinistra Terzo RATUR L'ultimo della pace Anche qui in Qatar Sper la seconda volta Capito Stavis Sperg énormément L'utilizzo Tevez Fug primero Tevez violento Efez controllo Tira subito La passia Sopra lui Io lo trovo anche grazie a un po' di fortuna Efez la limite Dentro Efez Tornito Stavis Loro La passia Si muove Pirlo Va dentro Temes Posizione regolare Deve essere la suddita Efez 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 All'impiaggia dei pali Efez 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 Grazie a tutti.